Benvenuti a Ferentino, campionato nazionale Under 17, si gioca la decima giornata del girone di andate in campo da pochissimi secondi, Frosinone e Cosenza, la gara è iniziata da 30 secondi, sistema la barriera Iovino, portiere del Cosenza, due uomini, calcio di punizione per il Frosinone, pallone messo al centro dell'area di rigore, è buona l'uscita del portiere del Cosenza, poi calcio in porta Romano, il pallone resta lì, l'azione ancora viva per la conclusione, da parte di Cipolla. Occhio al destro di Evangelisti, il capitano del Frosinone, invece caccia russo a giro, gran parata da parte di Iovino, ancora Severino suggerimenti in avanti, sbagliato, e allora ripartenza per il Cosenza, attenzione che è scappato via, bene sul filo del fuorigioco, Violante, uno contro uno con quadraccia, ancora Violante, fino in fondo, conclusione debole, pallone tra le braccia di Stellato. Ancora Evangelisti in area di rigore, lo sprint, Evangelisti fino in fondo, la mette in mezzo, e dall'altra parte viene anticipato Voncina. Gira subito in avanti per D'Andrea, che prova subito a scappare sul filo del fuorigioco, ancora D'Andrea, il duello con il numero 6 del Cosenza o chiudo, D'Andrea passa fino in fondo, ancora D'Andrea, la mette in mezzo, per la conclusione a porta vuota, alta, da parte di Russo, a chiusura di quadraccia, occhio che passa nel traffico, ancora Celestino poi in area di rigore, la conclusione, la gran parata, da parte di Stellato sulla conclusione di Violante, e arriva il triplice fischio del direttore di gara, la città dello sport di Ferentino, è 0-0 tra Frosinone e Cosenza in questa decima giornata del campionato nazionale Under-17.